9 persone fermate provenienti da Senegal e Marocco di cui 6 deferite l'autorità giudiziaria per violazione delle norme sull'immigrazione, oltre a una denuncia per falso ricettazione e merce sequestrata per un valore di 13.000 euro. Questo in sintesi il bilancio dell'attività svolta a Lido Adriano e Lido Di Savio per la lotta all'abusivismo commerciale in spiaggia da parte della Polizia Municipale del Comune di Ravenna, guidata dal nuovo comandante Andrea e Giacomini. Sono stati sequestrati 55 articoli firmati ma contraffatti tra borse, portafogli, cinture, maglie, pantaloni, giubbini e scarpe per un valore di circa 3.000 euro e teli, costumi, bigiotterie e occhiali per un valore stimato di 10.000 euro, 9 i verbali contestati pari ad oltre 5.000 euro ciascuno per commercio abusivo. Già da diversi mesi è in atto un importante servizio sul litorale. La misura principale che viene attuata è quella del presidio che sta dando risultati straordinari. Tutti quelli che fruiscono della spiaggia hanno potuto apprezzare come nei lì di sud ma anche in quelli centrali e fino al nord la presenza di operatori abusivi è stata sostanzialmente azzerata e questo grazie all'impiego di tutto il personale mattina e pomeriggio nel servizio in spiaggia. Ovviamente quei pochi residui che intendono imperterriti proseguire nell'attività illecita debbono necessariamente impattare contro il pugno duro che stiamo adottando contro di loro.